Perché così poca chiarezza intorno al teatro romano? Nuovo intervento stamani da parte dell'associazione Terra Monostra che rilancia l'allarme dopo le ultime notizie avute dalla stampa e non direttamente dalla sovrintendenza che esita ancora insieme a Regione Comune a indire una conferenza dei servizi che renderebbe noto come impiegare il 1.600.000 euro di fondi cipe destinati al recupero del teatro. Fondi che, ai fini di una ripulitura dell'area e sua fruizione, rischiano di essere destinati allo spostamento sulla cona dei blocchi di Travertino, anziché essere ricomposti per riavere i fornici abbattuti nel 1960. Così come deve essere abbattuta a casa Adamoli, ma anche su questo punto non c'è trasparenza. Lì non si vuole il recupero della cave a Romano, ma si vuole fare altro perché non ci prendiamo in gira e non prendiamo in gira i cittadini. Adesso è uscita la novità che bisogna togliere quelle pietre e portarle sulla cona e numerarle. Quelle pietre già sono numerate. Lì sono tre fasi, noi abbiamo detto. Un milione e sei si può finire 720.000 euro per l'acquisizione di casa Salvone. È stata valutata due anni fa quando non era terremotata, adesso è pure terramotata. Ci sta ad acquisire altre due stanze di casa Adamoli e con il resto si fa l'abbattimento di questi due incongrui palazzi se si vuole fare questo per la città, se vogliamo riavere il teatro romano. Perché noi abbiamo distrutto il teatro comunale, vogliamo distruggere pure il teatro romano. Si susseguono iniziative fino a Ravane per avere risposte. La direzione cultura della giunta regionale ha chiesto un incontro alla sovrintendenza. Il deputato radicale Elisabetta Zamparutti è stato a Teramo giorni fa e giovedì scorso ha presentato un'interrogazione sul teatro romano al ministro per i beni culturali Sandro Bondi. Anche Vittorio Sgarbi farà la sua parte. Io faccio un appello a tutta la città di cercare di salvare il nostro bene che non si può snaturare in questo modo.